Caro Babbo Natale, non mi sarei mai aspettato di scriverti ancora una letterina, ma quest'anno ho deciso di tornare bambino. Devo essere sincero, ci sono aspetti del Natale che ho sempre sopportato poco, ad esempio i cenoni interminabili, le domande scomode o il solito simpatico di turno che è il primo numero estratto dalla tombola se ne esce con Ambo. In questo Natale però percepisco la mancanza anche di queste cose più banali. Purtroppo questa pandemia sta sopprimendo la magia del Natale e ci impedisce di vivere questo giorno nella maniera in cui siamo abituati da sempre. Ed è per questo che mi rivolgo a te, sperando in un 2021 migliore, ma soprattutto normale. In questo paese, senza più guerra, opera, disse a Gio Mattarella. Zia Concetta e Pasquale sono al centro commerciale, ho speso un capitale per un'albia di Natale. alberi, 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 mediali non vogliono. Sbagliamo, in questo paese, senza più guerra, opera, di Sergio Mattarella. Tale iniziato, nel modo sbagliato, non so quante volte abbia già bestemmiato, perché tutti i parenti che non vedo mai, chiedo l'incolo quanti anni hai. non mi resta che guardare, sono triste alberi di Natale, e sperare al più presto di poter scappare. alberi, 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 mediali non vogliamo, in questo paese, senza più guerra, opera, di Sergio Mattarella. I vecchi e gli anziani parlano di tempi lontani, di quando combatterono i vespo siciliani, sul divano gli adulti, si tirano insulti, dimostrando reale, il valore del Natale. finito il cenone, il di casa padrone, col fucile puntato, butta fuori ogni invitato, manda a letto i suoi figli, a suoni sberloni, e si precipita il val, dai suoi amici ubriaconi. alberi, 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 dei viali ne vogliamo, in questo paese, senza più guerra, opera, di Sergio Mattarella. alberi, 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 dei viali ne vogliamo, in questo paese, senza più guerra, opera, di Sergio Mattarella.